La privacy per esempio è un tema di cui pochi hanno percezione, le persone non si rendono conto di quanto sia importante per loro, pensano che sia solo nome e cognome. Oggi con l'intelligenza artificiale cambia tutto, perché con i database rubati possono sapere in tempo reale dove siamo, con chi siamo, cosa facciamo, quella è la privacy. Per non parlare della sicurezza, che ci tocca a tutti e tocca nelle tasche, perché non avete idea di quante segnalazioni ricevo ogni giorno sul tema del phishing. e di quello che accade anche nei computer delle persone, perché sono dei punti di ingresso sia nelle aziende sia nelle case.